Dopo il fallimento delle trattative della scorsa settimana, cala il sipario sulla vicenda Manuli. A meno di qualche colpo di coda in extremis, l'azienda ha comunicato, con lettere datate 14 novembre, i primi licenziamenti. Le missive sono state inviate ai dipendenti dopo che era assaltato la scorsa settimana l'accordo fra azienda e sindacati confederali per il reintegro di parte dei dipendenti. Un accordo raggiunto al Ministero dello Sviluppo Economico, ma successivamente respinto da SDL e UGL, e bocciato la settimana scorsa dall'Assemblea dei Lavoratori svoltasi in un clima di fortissima tensione, tanto che alla fine i rappresentanti nazionali di CGL e Cisle Will furono costretti ad abbandonare l'Assemblea, scortati dalle forze di polizia. La bozza di accordo prevedeva 135 ricollocamenti nell'immediato, altri 5 entro un anno, e una somma di 3.700.000 euro da dividere fra chi fosse andato in mobilità o in cassa integrazione. Le lettere di licenziamento, dicevamo, portano la data del 14 novembre, giorno dal quale i licenziamenti, che in tutto dovrebbero essere 373, decorrono ufficialmente. Ieri intanto a Roma la Manuli ha preso atto del mancato accordo sul piano industriale, e stamani gli operai si sono subito riuniti in Assemblea davanti ai cancelli dello stabilimento di Campolungo. I lavoratori si stanno organizzando per una raccolta di firme per dare mandato a CGL e Cisle Will di tentare di riaprire in extremis la trattativa con la direzione della Manuli. Tecnicamente c'è ancora un po' di tempo, perché finché i lavoratori non si iscriveranno alla mobilità, sarà possibile chiedere all'azienda di sospendere i licenziamenti, ma l'impresa appare alquanto ardua.